Ciao a tutti e bentornati a Leveragondor, canale youtube dedicato al signore di NLCG Continuiamo la nostra progression series con conflitto, scontro alla carroccia Questa è un po' la prima missione in cui dobbiamo andare a stare attenti alle scelte che si fanno Vediamo un po' questa mano, insomma, non ci piace tantissimo, quindi la mullighiamo Andiamo a mulligarla, forse un filo meglio, anche se non super eccezionale Carichiamo la quest, che è il conflitto alla carroccia, qui dobbiamo fare un po' di cose velocemente Uno di questi, il Sacket, va rimischiato nel mazzo incontri, speriamo di non vederlo troppo presto Invece queste qua vanno tolte, qui l'ho mischiato, ho rimosso i 4 troll Giro, la carroccia è qui e non possiamo viaggiarci finché non abbiamo messo i 7 progress qui Quindi possiamo iniziare il turno Pesco una seconda carta con Bilbo Ok, a questo punto diciamo che diamo una risorsa di Eowyn per giocare la Song of Kings Andiamo in impresa solamente con Eowyn Riveliamo The Brown Lens Urca Vado a scartare The Forest Snare Per dare più uno a Eowyn Perdo comunque D2 Viaggio verso le Brown Lens Mette su automaticamente un segnalino Progress Andiamo nel turno successivo Pesco un'altra carta Ok, allora non gioco il verde perché se mi esce Sucked voglio essere sicuro di avere le risorse per giocare il Miner of the Iron Hills Quindi questa è un po' la scelta Per cui a questo punto vado solo con Eowyn E basta Ok Ma in realtà posso giocare comunque con due risorse e gioco Lashere Veterano Quello sì, vado solo con Eowyn Il Marsh Adder Urca, perdo di uno ancora Vado a 32 Dunque 4, meno 2 Ok Allora questo me lo ingaggio Mi Mi fa un effetto ombra 4, 6, 8 Lo prendo in contrastato 4 sono 4 su Gimli E quindi a questo punto Gimli sta attaccandomi Segni direttamente il 6, 8, 9 E quindi è sufficiente per Lui mi alzava la minaccia di uno tra l'altro Però poi lo mettiamo nel Victory Display Ehm No Quindi questo qua se ne va Ok Perfetto, quindi andiamo nel turno successivo Peschiamo un'altra carta Ok Allora, 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 allora Sono tentato da Glewine Sono tentato da Glewine Eh, sì Lo facciamo, dai Poi non lo Eventualmente se mi capita il Sacket Non lo diamo a A A Bilbo Quindi Con Glewine peschiamo una carta Eccolo lì Bene Poi andiamo in impresa Stavolta con Eowyn E anche Bilbo Ok Misty Mountains Goblin Quindi metto su un Progress Lui mi ingaggia Gli do la carta Ombra Lo paro con l'Asciere Veterano Due Non c'è effetto Ombra Devo rimuovere un Progress Quindi lui fa due Contro uno Fa uno E poi con Gimli che attacca a sei Lo ammazziamo Ok Andiamo nel turno successivo Quindi peschiamo una carta con Bilbo Bene E una carta con Glewine Bene A questo punto paghiamo Tre di Eowyn Per abbassarsi comunque la minaccia di sei Perché tanto Questa roba qua ci torna utile Lui intanto attacca sei Otto Siamo sei otto Va bene Vado solo con Eowyn Grimberon The Old Ok Non si esaurisce per difendere contro i nemici troll Se Grimberon The Old Ha otto più il risorto canonim Si aggiunge il Il Come si dice Diventa mio Praticamente Ok Va bene Quindi metto su due Progress qua Ok Va bene Andiamo avanti Quindi a questo punto Con l'abilità di Bilbo Pesco una carta Ok Poi con Glewine Pesco un'altra carta Sto cercando lo Stuart of Gondor Per cominciare a dare accelerazione E a questo punto Non uso risorse Ma potrei fare Due Due risorse per giocare comunque Le Rebo Ramersmith E andare a riprendermi la Forest Snare Close and Keep Order A questo punto andiamo con Eowyn E anche con Bilbo E anche con Bilbo Dispare Rimuovo i 4 Progress dalla Quest Va bene Ne rimuoviamo Vinco di 3 E quindi ne metto su 3 1, 2, 3 Ok A questo punto vado nel turno successivo Pesco un'altra carta con Bilbo Tappo Glewine E pesco un'altra carta Ok Allora Ho 4 della Città del Plate Ma Come si dice Voglio tenermi nei 2 Per avere lo Stuart of Gondor Quindi facciamo 1, 2 Giochiamo un altro Ascere veterano Ok A questo punto vado di nuovo in impresa con Eowyn E Bilbo Giusto Non rischio No Ok Perfetto Quindi metto un unico Progress Viaggio verso il River Langflood E Finisco il turno Shift più N Pesco un'altra carta con Bilbo E un'altra carta con Glewine Finalmente abbiamo trovato lo Stuart of Gondor Quindi a questo punto diamo lo Stuart of Gondor a Gimli E a questo punto Gimli comincia a macinare risorse Ok Se avessi un'altra canzone Questa cosa potrebbe aiutarmi molto Ma un'altra canzone non ce l'ho Ok Allora possiamo far così in realtà Paghiamo comunque 3 risorse per mettere 3 risorse qua Così quando arrivo a 8 poi lui mi aiuterà dopo Bene Poi qui ne abbiamo 3 Più 2 è 5 Poi poi andremo con Eowyn E Bilbo Ok Sono solo 3 Progress ma va bene Riveliamo il Misty Mountain Goblins Per cui mettiamo un unico Progress qua Anche se in realtà andiamo a scartare un attachment che è la Forest Snare Va bene Quindi 2 Progress qui Ci ingaggiamo al Misty Mountain Goblin Attacca Lo pariamo con l'Erebor Hammersmith 2 Non c'è effetto ombra 2-1 Fa 1 E dopo che è attaccato rimuove un Progress token dalla Quest Ok Poi lo massacriamo con Gimli Benissimo Quindi andiamo nel turno successivo Peschiamo un'altra carta con Bilbo E una carta con Gleowine Ok Paghiamo Dunque 2 di questo Per l'Erebor Hammersmith riprendere in mano questo Con lo Stior of Gondor Ne usiamo 2 Da mettere qua E una Da mettergli su qua Così comunque gli portiamo l'attacco A 7 Sta attaccando adesso 7 Diciamo No Detach 7, 9, 11 Ok Più varie finte e cose del genere Va bene La minaccia Potrei ancora abbassarla 4 turni ancora Potrei installare ancora 4 Sì qualche turno Quindi con 4 Andiamo a mettere su Il Norden Tracker Perfetto A questo punto andiamo in impresa Con Eowin E Bilbo E Bilbo Sempre direi Riveliamo una carta B Pastours Quindi 2 progress Sono 1 E 2 Questa se ne va Dopo che Viaggi qui Greenbird e All Ok Non serve in realtà In questo caso Perfetto Quindi andiamo nel turno successivo Peschiamo un'altra carta Con Bilbo E un'altra carta Con Gleowine Ok Che cosa sto aspettando In realtà sto cercando Di mettere risorse Per prendere Greenbeorn Perfetto Quindi uso 3 risorse E Greenbird diventa mio Adesso Tutto sommato Aspetto solo 2 turni Per farmi scendere la minaccia Per gestire poi I troll successivamente Poi Il resto Diciamo Va un po' da sé Ok Quindi andiamo in impresa Con Eowin E E Bilbo Sempre River Langflood Mettiamo un unico progress Che è questo E scartiamo una carta Con Eowin Per darle più 1 E quindi mettere 2 progress In realtà E questa qui Se ne va Viaggiamo verso River Langflood Ok Andiamo nel turno Successivo Eschiamo una carta Con Bilbo E una carta Con Glewine Ok Sicuramente Giochiamo Enamart Canto fluente Un altro Ascere Non sarebbe male Giochiamo un altro Ascere Così Diciamo che Ragionevolmente Faccio veramente Del male Andiamo a vedere Cosa c'è come carta Ah c'è il Mac Adder Ok Va bene Quindi 1 Più 3 4 Andiamo solo Di Eowin Quindi Mettiamo No Sbagliato 2 3 Va bene Non cambia niente Mettiamo questo Su Eowin Un progress Scartiamo un altro Steward e facciamo Mettere un altro Progress E a questo punto Lui ci ingaggia Lui ci ingaggia Però possiamo Giocare una risorsa Di Gimli Per giocare Il Quick Strike E farlo fuori Prima che attacchi Ok A questo punto Andiamo nel turno Successivo Beorn è interessante Quindi potremmo Mancare un attimo Di risorse Tanto abbiamo deciso Che lo facciamo Sì Va bene Allora Pago 3 Gioco Il Galadrim Screating E mi scende La minaccia Di 6 Quindi da 37 Vado a 31 Perfetto A questo punto Non mi ricordo Se avevo pescato Con Bilbo Comunque pesco Con Glewine Bene Guardiamo Con Enamart Che cosa ci aspetta Rimuovi 4 progress Dalla quest Vogliamo proseguire Quasi quasi Possiamo proseguire Io direi di sì Quindi Mi ne rimuovi 4 Devo mettere 2 3 E 7 10 Quindi Facciamo 4 5 6 7 Eh Facciamo così Solo 7 Ok Ci andiamo al turno Dopo a questo punto Rimuovi 4 progress token Dalla current quest card Ok Rimossi Vinco di 5 progress Qui sono 1 2 3 E 4 Questa qua se ne va Andiamo nel turno successivo Peschiamo una carta con Bilbo E una carta con Glewine Ok Poi Abbiamo le forest snare Ok A questo punto Vediamo con Glewine Cosa ci aspetta Va bene De Brown Lens Quindi 5 più 2 7 4 12 Quindi io farò Allora Anzitutto Aspettiamo un attimo Quindi devo mettere 12 Per proseguire 4 5 Non ce la facciamo 6 7 8 Per cui riveliamo Questo qui Che è De Brown Lens Metto un unico progress Viaggio verso E Brown Lens Segnalino progress Che se ne va subito Ok A questo punto Andiamo nel turno successivo Ok Uso 6 risorse Di Gimli Per giocare Beorn Tappo Glewine Per pescare una carta Guardo cosa mi aspetta Con Enamart Che è questo Quindi a questo punto Possiamo proseguire Oddio 33 Non è granché Però tanto poi Posso far entrare Gandalf Con lo sneak Attacco Ok Va bene Quindi noi abbiamo 2 3 Più 3 Quindi devo mettere 7 Quindi facciamo 4 5 6 E 7 Quindi rivelo questa Metto 4 progress Per cui nel momento In cui ho messo Questi progress Devo andare Con la carroccia Giusto Dopo che ho pensato Settimo progress Questi progress La carroccia Diventa la location Attiva Scarta Le previous location From gioco Quindi questa qui Diventa la location Attiva Questo qui Si innesca E dice Che quando rivelata Piazza Le unique troll cars Previous Settaside Into the staging area Ok Quindi devo piazzare Tutti questi qui Nell'area Di allestimento Va bene Che mi mette Un violentissimo 9 Nell'area Di allestimento Però va bene Allora A questo punto Il primo Sicuramente Io l'ho finto No? Vediamo così Event Io ho Tre finte Quindi posso Fintarli tutti e tre E farli fuori tutti Ok Close and key porter Quindi a questo punto In realtà Si tratta un po' Di gestire Questa cosa No? Per cui Vabbè Prendiamo Luis Paghiamo una risorsa Di Gimli Diamo la carta ombra Quindi entriamo Nella fase Combattimento Usiamo una risorsa Di Gimli Per usare una finta Lui non attacca Lui ha 13 Quindi facciamo 7 9 11 13 E quindi questo qua Se ne ho dopo che l'hai sconfitto Puoi scartare una carta Sacket Dal gioco Va bene Ok Possiamo quindi andare Nel turno successivo Allora Vediamo un po' Nel turno successivo Vediamo cosa ci arriva Così facciamo un po' Di conti Ah Peschiamo una carta Con Bilbo E un'altra carta E un'altra carta Con Glewine Ok Bene L'attacco furtivo Che era quello che volevamo Allora Noi abbiamo Sulla staging Abbiamo 1 Dove è Gandalf Gandalf Ci abbiamo Gandalf Adesso mi viene il dubbio che non ci abbiamo Gandalf Ah qua Gandalf Gandalf Mi fa abbassare la minaccia di 5 Per cui andiamo a 29 Mandiamo un'impresa anche Gandalf Ok Mandiamo un'impresa anche Gandalf Rivediamo la carta che è List Byte Mettiamo 4 Progress Che sono 4 qui A questo punto La fine della fase di impresa Gandalf Mi ritorna in mano Possiamo anche giocare 3 di Eowyn Per giocare Grazie Griting E scendere addirittura 23 Decidiamo di ingaggiarci Stuart Gli diamo la carta ombra Stuart Giochiamo una risorsa di Gimli Per giocare la finta Quindi Stuart non attacca A questo punto Stuart in realtà Ha 13 14 14 Quindi sono 7 Ho sbagliato tasto qua Sono 7 9 11 13 16 Per cui questo qui Se ne va E quindi possiamo andare nel turno successivo Nel turno successivo Peschiamo un'altra carta con Bilbo Esauriamo Glewine Peschiamo un'altra carta Abbiamo pescato un altro Gandalf Facciamo lo Stuart of Gondor Dunque potremmo giocare due risorse di Gimli Ma giusto così Per divertimento Mettergli su Un altro Dunedain Mark No Non questo Ops Mi attaccava 4 Dunque Gimli 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 Dov'è New round Ah no Qui siamo proprio ancora all'inizio Ok Allora a questo punto In realtà no Questo qua è Detach Insomma È un po' rallentato Ok L'abbiamo tolto Dicevo Devo usare le due risorse Per giocare Per giocare Il Il Dunedain Mark Che gli diamo E questo qui Facciamo detach Ok Che non ci serve In realtà In questo momento Va bene Scusate Quindi Vediamo con Enamart Quello che c'è Con Enamart Abbiamo Il River Lank Flood Per cui avremo Nell'area dell'estimento Abbiamo 6 Più 2 8 Più 2 10 Se riuscissimo A metterne 10 Non sarebbe male Quindi Eowin Bilbo L'Erebo Hammersmith L'altro Erebo Hammersmith Paghiamo Una risorsa Per giocare Lo Sneak Attack Mettere dentro Gandalf Che Potrebbe addirittura Ancora ridurci La minaccia Fare 4 danni Ma si Così poi in realtà Lo ammazziamo Ok va bene Facciamo così Quindi fa 4 danni A Morris Poi va in impresa Anche lui Quindi Riveliamo una carta Vinciamo di 3 Progress Facciamo 1 2 E 3 Ok Più 4 6 Ok Alla fine Alla fine della fase di combattimento Lo riprendiamo in mano Andiamo nel turno successivo Nel turno successivo Siamo al round 15 Andiamo a pescare un'altra carta con Bilbo e con Glewin E andiamo a esaurire il mazzo Usiamo 5 risorse di Bilbo per giocare Gandalf E fare 4 danni a Rupert 4 danni a Rupert è sconfitto E quindi Non ci sono troll Abbiamo un progress Per cui abbiamo finito L'avventura Con 176 punti Abbiamo pescato tutto il mazzo Quindi insomma Diciamo che Se si riesce a tenere bassa la minaccia Si prosegue solo quando si è pronti Poi l'avventura è facilmente superabile Spero che vi sia piaciuta Continueremo poi La prossima con il viaggio a Rosgobel Buona continuazione Alla prossima